salve ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono Fabrizio e con il suono di questa bellissima la Ferrari quest'oggi vi faccio o meglio vi spiego come utilizzare la free camera su Project Cards 2 quindi come si fa? semplicemente utilizzando la combinazione dei tasti CTRL K si libera la free camera ma anche senza solo che cambia un attimino la velocità di esecuzione appunto dello spostamento della telecamera quindi come vedete io mi sono posizionato dietro il posteriore di questa fantastica auto semplicemente attivando quindi premendo CTRL più K si attiva la funzione free camera quindi premendo il tasto Q si avanza tasto D si indietreggia Z si alza quindi uno può posizionarla un po' come vuole io la voglio così per dire voglio guidare così vi dimostro che posso guidare così vedete quindi qualsiasi sia la posizione della telecamera che si è scelto si può appunto guidare quindi per tornare alla funzionalità quindi Q va avanti T va indietro S scende Z sale A a sinistra e a destra e quindi poi finito così si ha la possibilità però di poter affinare veramente la posizione della telecamera se io cambio e mi metto all'interno e voglio semplicemente girare la testa basta rifare di nuovo CTRL K e tenendo il tasto sinistro del mio mouse mi sposto a destra e a sinistra e le assi verticali sono invertiti quindi se faccio verso di me vado verso l'alto e in basso e anche qui se lascio così senza toccare posso tranquillamente guidare nella posizione che voglio e posso sistemarlo come voglio che avrebbe da dire se mentre guido se voglio guardare indietro lo posso fare quindi qui non solo posso fare dei cliché abbastanza interessanti in posizioni della macchina che normalmente le telecamere standard non ci offrono come possibilità ma posso anche sistemare la visuale veramente come mi piace a me quindi ragazzi non c'è null'altro da aggiungere e questo il mio piccolo segreto ma che tanti conoscevano per poter impostare la free camera se il video vi è piaciuto lasciatemi un like non esitate a commentare se non l'avete già fatto iscrivetevi tanto è gratuito ci vediamo al prossimo video e spero davvero che questa volta sia per un'altra recensione del famoso automobilista e perché no con il tutorial di come impostare il volante sia di project cars 2 che di automobilista ragazzi per oggi è tutto un abbraccio grazie mille per avermi seguito ancora un'altra volta a presto da fabris ciao